che alla domanda siete contrari al green pass per i vaccinati non vaccinati eccetera gli italiani ebbe sorprendente e gradito dal mio punto di vista il risultato di vedere che il 45 per cento 40 giorni fa degli italiani erano contrari al green pass e più questi green pass vengono ridotti nella loro durata più vengono condizionati alla reiterazione di dosi e prima e seconda eccetera più queste dosi vengono rese obbligatorie e meno questi vaccini dimostrano di funzionare sul piano della prevenzione e quindi della della sicurezza e della efficacia e più la quantità di persone arci stufe di questa porcheria di questa patente dell'obbedienza che non ha più niente a che fare con nulla di sanitario la stessa emergenza nulla a che fare con nulla di sanitario ma proprio per introdurre un sistema di controllo di questo tipo sui singoli sulle persone e sui loro corpi e entro questa quantità di gente arci stufa che prevale dappertutto in tutto il mondo e che infatti in tutto il mondo le hanno tolte queste porcherie sono in italia dove c'è una potenza televisiva a reti unificate insomma le reti nazionali insomma gli italiani sono un po più drogati di male informazione che altrove quindi ci mettono più tempo ma si stufano